e ciao a tutti amici questo piccolo video realizzato con il cellulare come backstage a un lavoro che ho svolto e qui eccomi vedete sono a un evento molto importante regionale sull'intelligenza artificiale perché ho voluto fare queste piccole riprese anche ammatoriali per farvi vedere che ho lavorato con la telecamera PTZ della Fomaco e quindi da solo sono riuscito a gestire l'intera registrazione avevo due telecamere una Sony una Fomaco e poi avevo in ingresso le slide del relatore un docente dell'università specializzato in intelligenza artificiale e nuove tecnologie e siccome avevo le telecamere a cavalletto ho approfittato senza sganciarle nel realizzare anche le interviste per un servizio più breve è una registrazione che è durata tre ore e in sala ha coinvolto molti artigiani fotografi addetti all'ICT e alle nuove tecnologie io vi ringrazio di aver visto questo breve video e ringrazio anche la Fomaco per queste telecamere remotabili che sono comodissime specialmente quando si è da soli